ciao ragazzi ciao ragazze bentornati sul mio canale questo è un video decluttering con dei miei blush mono allora prima di cominciare però a mostrarvi blush che andrò a declutterare perché ho le palette e ho il blush mono iniziamo andare a declutterare il mono perché non voglio che il video diventi lunghissimo quindi l'altra volta ho fatto il video decluttering dei fondotinta adesso faccio quelli dei blush mono però prima di iniziare a farvi vedere cosa andrò a declutterare se non siete ancora iscritti al mio canale subscribe iscrivetevi al canale attivate la campanellina venite a trovarmi su instagram e sulla mia pagina facebook tutti i link giù sotto nell'infobox e mi raccomando se questo video vi è piaciuto mettetemi un bel like e condividetelo sui vostri social ora però iniziamo a declutterare i blush andrò a mettere di quelli che non andrò a quelli che andrò a buttare cioè nel senso o meglio a cestinare lasciare lì a vedere se qualcuno li vuole dentro questo porta oggetti allora andiamo subito con un blush che non mi piace proprio per niente che della v7 si chiama candy blush non sto qua a farvi tutti gli swatch però questo blush sinceramente non mi piace non scrive tantissimo e quindi lo vado a buttare poi questo blush di kiko che è della collezione vediamo vediamo rebel bouncy non so se non si dice così questo è un blush in crema guardate che bellissimo colore un colore vino è stupendo ragazze veramente quindi questo lo tengo si era capito vado direttamente a riporli nel cassettino così almeno aspettate dicevo apri cassetti così almeno l'infilo dentro subito un altro brush che vado a tenere e questo di debalm questo si chiama cabana boy è molto bello mi piace tanto per questo blush qui e lo vado a tenere non sto qua a farvi gli suoi ragazze perché bene o male sono tutti uguali un altro brush che vado a tenere e questo di make up revolution questo qua si chiama opulence blush compact questo blanche un blanche rotondo a parte tec che stupendo e rosa con tutti i glitter in oro rosa non sono in rose gold non so se si si possono vedere ma credo proprio di no però guardate la riflettenza si prima lo beccata ecco più ciao vado a beccare vado a beccare vado a tenere questo blush che è veramente stupendo diviso in quattro questo è un illuminante mischia gli altri sono tutti blush matt ma meschiato tutto insieme viene fuori un blush luminoso quindi mi piace veramente tanto ragazze è stupendo ve lo stra consiglio questo qua si chiama opulence c'è anche nella colorazione corallo mi sembra volevo prenderlo ma non lo trovo più sul sitone pink pandable non trovo più poi un blanche che vado a declaterare questo di essence della collezione good vibes questo qua doveva essere un duo highlighting ma in realtà di highlighting non ha niente ho provato a utilizzarlo come blush ma in realtà non scrive neanche come blush quindi lo vado a declaterare poi un altro prodotto che vado a declaterare è questo sempre blush di essence questo si chiama il 30 secret it girl e sinceramente non mi fa impazzire come colore quindi utilizzato un pochino però non mi piace non mi piace non mi piace via tutti i blush che vado a tenere adesso faccio una carrellata molto veloce sono questi di mac ne ho parecchi a dire la vita dire il vero andiamo ad aprire il cassettino sotto perché io divisi tutti di mac sotto e tutti il resto sopra questo che è in crema questo che si chiama petal power che è il dupe di orgasm di nars questo della collezione mariah carey questo è un blush in crema ed è stupendo veramente è una regata una mia amica che non sento più chissà perché due di questi qua belli giganti di una collezione mi sembra natalizia se non ricordo male uno corallo e uno rosa sono veramente stupendi sono grandi non li finisco mai questi ogni tanto vado a prenderli ma ragazzi non li finisco poi c'è questo qui c'è un colore malva questo qui che si chiama gentel è un mineralize blush sono meglio di tutti i tipi di mac perché ero infissa c'è stato un periodo che molto infissa con mac guardate che bello che è usati poco tra le altre cose mannaia me poi c'è questo che un bellissimo colore si chiama peoni petal è bellissimo e questo anche molto bello strong sunborn sunborn insomma questo che è un color violaceo guardate che bello è stupendo quindi questo poi di mac 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 ecco qui o questo anche questo è molto bello che si chiama brit of plum e poi ne ho un altro che devo recuperare sono recuperato eccolo qui questo qui si chiama armoni come tutte sapi come tutti sappiamo almeno maggior parte di noi che ci piace truccarci e ci piace mac sappiamo che questo è un marrone freddo adatto per fare contouring infatti a me a me sulla mia carnagione non sta bene come blush io l'ho preso però per fare contouring freddo in polvere e quindi questo sta nelle terre però è un blush è giusto che ve lo faccio vedere però lo metto al suo posto nelle terre lo uso come terra poi blush di mac finiti vado a cestinare questo prodotto di max factor che non mi è mai piaciuto questo blush è orribile non mi piace proprio per niente diciamo che la luce ecco devo stare indietro perché se li porto troppo avanti la luce non fa vedere bene il colore è questo qui e non è bello per niente non mi piace poco scrivente non mi piace via un altro blush che vado a declatterare è questo di nix questo qui perché ha un colore troppo troppo arancione è un degradé ma è veramente arancione 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 e ragazzi su di me non sta tanto bene l'arancione quindi via poi un blush che vado a tenere e questo di chanel è questo blush qui è un bellissimo rosa con dentro dei glitter è bello 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 mi piace questo lo vado a tenere lo metto insieme a quelli di mac poi altri blush che vado a tenere sono questi di nars che alla fine è sempre orgasmo questi sono i duo dove c'è orgasmo e laguna la terra invece questo è solo il blush e questo è un dupe di questo nuovo di zecca quindi li vado a tenere questo comunque sia il blush che la terra mi piacciono poi un dupe sempre di orgasmo e questo di slick che si chiama è rose gold 926 ed è veramente il dupe di nars di orgasmo ancora servizio scusate è questo è un bellissimo rose gold è stupendo veramente ragazze proprio di up poi andiamo avanti una palettina che mi piace tantissimo l'ho messa qua perché appunto una palettina piccolina la tengo nei cassettini e questa di essence love sono diventata matta a cercarla e ovviamente la vado a tenere qui dentro abbiamo un rosa e due pescati per questo che vado a cestinare gli altri pescati perché comunque ne ho già qua due e sono bellissimi veramente questa qui la lascio impostazione perché comunque è carina anche da vedere con la scritta love la lascio qui quindi la tengo un altro blush illuminante che vado a tenere perché questo qua si chiama un blush illuminante molto luminoso e stupendo sempre della collezione good vibes di essence è questo qui che vado a tenere anche questo guardate la riflettenza di questo blush quanto è stupendo e anche questo la vado a tenere poi altri blush di essence che vado a tenere sono questi due qui che sono i 150 pink me up e l'altro il 60 cherry me up questi due li vado a tenere un blush che vado a cestinare è questo qua della rock attraction blush lo 02 di kiko non mi piace lo vado a cestinare perché comunque anche molto vecchio e ne ho tanti di più belli ecco sempre su queste tonalità rosate e lo vado a cestinare un blush che vado a tenere invece questo qua che ho trovato sul calendario dell'avvento di nyx professional makeup e si chiama lolly pop hop questo colore qui che è un naturale diciamo molto bello e quindi questo lo vado a tenere poi andiamo a vedere allora vado a tenere tre blush di kiko che questi si chiamano metal fusion blush sono una cosa spettacolare ragazze il problema è che con le palette si tira fuori la palette non si vanno più a prendere i mono e quella la fregatura ma ragazze guardate questi blush li apro tutti così vi mostro tutti in fila guardateli che belli che sono ma sono una cosa spettacolare sono bellissimi ho la colorazione 143 dovrei avere la 02 però che la tengo come illuminante se non erro oppure non mi piaceva perché era sul marroncino comunque questi sono spettacolari ragazze speriamo che facendo un decluttering riesca poi utilizzare qualcosina in più poi vado a tenere questo qua della pupa like doll il numero 104 questo qui è un po scavatino scusate c'è il vizio di farlo vedere da vicino chissà perché ma il colore si vede meglio da lontano e questo è il colore 104 e lo vado a tenere spallina stai su vado a declutterare di kiko questo blush qui che si chiama color explosion scusate multi tone blush è quello che aveva tre tonalità di colori ma in realtà è vecchio 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 questo colore qua bene o male ce l'ho e quindi lo vado a declutterare perché comunque anche vecchio beh però un po' ho da apertura 36 mesi 3 anni vabbè poi della collega dell'edizione proprio vecchia di kiko che adesso sono cambiati pack erano questi rotondi non so se ve li ricordate e si chiamavano soft touch blush e vado a tenere il 110 e 112 110 e il 112 uno è un malva e uno è un rosa un po' più bambola perché poi vi faccio vedere cosa vado a declutterare di kiko sempre vado a declutterare questi quattro qua li avevo presi quando li avevano buttati fuori perché cambiavano il pack a un euro ma ragazzi non mi piacciono veramente questo che è il 111 poi c'è il 109 a se riesco il 109 che è un marrone e il 107 che è un marrone bruciato non li uso quindi è inutile tenerli nel cassetto poi vado a tenere questo qua di kiko che si chiama shade fusion trio blush è quello a tre colori io li mischio tutte e tre insieme ed è un bellissimo blush mischiato insieme vado a tenere anche questo qua di bella oggi che è un farre illuminante è molto tenue però carino questo qui vado a tenere questo qua di kiko vado a tenere questo qua di kiko della collezione se non ricordo male life in rio se non ricordo male mi sembra di sì una cosa del genere ha un po' di anni comunque il profumo è ancora molto molto buono da una parte sarebbe una parte illuminante una parte matt ma in realtà se io vado a mischiare solo questa parte mi fa un effetto tipo un po' pescato l'altro è rosato vedete mi ha mischiato insieme viene fuori il suo fratello insomma teniamolo anche se non lo sto usando più di tanto l'ultimo blush da declatterare è il we make up ma non perché è we make up ma perché non mi piace il colore l'avevo preso per fare la full face we make up ma sinceramente ragazze questo qua è un colore marroncino smortino sul mio viso sta un po' malino ci fa anche rima è proprio un marrone cioè un marrone è un naturale però guardate è questo cosa dite voi lo tengo beh adesso che lo sto swatchando un colore così è molto leggero è molto guardate oddio dove vado a fare i blush dove vado a fare gli swatch eccolo lì lo faccio lo tengo ma ripro un tono un coso nude vabbè dai lo tengo quello di we make up non volevo tenerlo ma ho deciso che lo tengo ragazzi questi sono i miei blush mono non si chiude il cassetto i miei blush mono che sono andata a declatterare questi sono quelli che vado a declatterare o meglio li vado appunto a mettere in un cassetto e poi vedremo un po' se qualcuno li vorrà oppure se li dovrò cestinare perché è inutile tenerli a far muffa quindi ragazze spero che questo video declattering dei miei blush vi sia piaciuto e farò sicuramente altri declattering ragazze aspettatevi quella bella delle palette mi raccomando continuate a seguirmi perché farò quello sulle palette lì ci sarà proprio da ridere quindi ragazze ci vediamo al prossimo video vi mando un enorme bacione e ciao ciao ragazze ciao a tutti